Rallentano i casi positivi in Maremma con gli ultimi sette si arriva al numero di 252 dall'inizio della emergenza. Arrivano finalmente le mascherine per gli operatori della Polizia Penitenziaria grazie alla donazione di privati. La signora Valeria Viva e il tappezziera Adolfo Lettieri hanno infatti regalato loro mascherine in TNT. Adesso, come spiega il coordinatore della Will PA, Polizia Penitenziaria di Grosseto Francesco Sanzone, richiederemo alla ASL l'esecuzione di tamponi al personale in servizio negli istituti penitenziari. Una infezione di Covid-19 che nella ASL sud-est si diffonde in maniera abbastanza lenta, come conferma e spiega il direttore generale. Si tratta di una infezione che nel territorio dell'azienda toscana sud-est cammina abbastanza lentamente. Registriamo 8 casi su 10.000 abitanti. Dico questo perché in altre zone della Toscana questo dato è maggiormente significativo. In Toscana nord-ovest il numero dei casi, sempre per 10.000 abitanti, è di 14. Si tratta di un virus che nel territorio della sud-est, e questa è una particolarità, ha una capacità di penetrazione non particolarmente significativa e se si manifesta, si manifesta prevalentemente con una sintomatologia similinfluenzale. Di circa 800 persone risultate positive, circa 700 sono a domicilio, in isolamento domiciliare. Una percentuale di ricovero in ospedale del 18% in Toscana sud-est, a differenza del quasi 50% della Toscana centro e del 30% della Toscana nord-ovest. La situazione dei territori dell'azienda Toscana sud-est è quindi una situazione abbastanza contenuta rispetto anche al resto della regione. Vi do un altro dato. Il numero dei nuovi contagiati incrementa rispetto al giorno prima del 5%, quando l'incremento medio è del 12% per non parlare dell'incremento in regione Lombardia. Una situazione in questo momento sotto controllo. Anche l'utilizzo dei posti letto, l'utilizzo degli ospedali, l'utilizzo dei posti letto di terapia intensiva, sicuramente siamo sottoposti a uno stress organizzativo, ma comunque entro limiti abbastanza contenuti. Abbiamo, come sapete, potenziato l'attività dei nostri laboratori d'analisi. Sono in grado di fare, tanto Arezzo quanto Grosseto, circa 100 tamponi al giorno.